Cari amici, sappiamo bene che nella storia dei disastri nucleari ci sono stati eventi che ci hanno toccato da vicino e ci hanno lasciato un ricordo indelebile. Chi non si ricorda di Chernobyl o della più recente Fukushima, almeno per sentito dire? Nella storia degli incidenti nucleari, esiste un evento accaduto in Giappone nel 1999 che penso potrebbe essere sconosciuto alla maggioranza delle persone. Sto parlando dell'incidente di Tokaimura. La cittadina di Tokaimura, con i suoi quasi 38.000 abitanti, si trova nella prefettura di Ibaraki e dista 120 chilometri in linea d'aria dalla parte nord di Tokyo. Questa cittadina è spesso indicata come il cuore dell'industria nucleare giapponese. Qui, nel 1956, è stato fondato l'Istituto giapponese di ricerca sull'energia atomica. In seguito, vi si sono insediate fabbriche di combustibile nucleare, impianti di ritrattamento e la prima centrale nucleare del Giappone. In questa cittadina si trova la Japan Nuclear Fuel Conversion Company, ribattezzata JCO, nel 1998. All'epoca dell'incidente, la JCO si occupava della produzione di combustibile per centrali nucleari a fissione, riprocessando combustibile esausto, cioè già utilizzato in qualche centrale nucleare, o arricchendo uranio proveniente da miniera. In questo stabilimento operavano tre strutture di conversione dell'uranio, due delle quali producevano fino a 715 tonnellate l'anno di uranio arricchito, a meno del 5%, per centrali nucleari convenzionali. La terza struttura, per la cronaca quella dove è avvenuto l'incidente, era autorizzata a produrre e purificare octaossido di triuranio in polvere e nitrato di uranile, per arricchire uranio fino al 20%. Questa struttura, denominata Conversion Test Building, CTB, era stata autorizzata nel 1984 a produrre non più di 3 tonnellate di uranio arricchito all'anno. Pensate che il suo uso cumulativo era limitato a circa due mesi all'anno, questo perché la produzione era limitata a piccoli lotti, mediamente da un centinaio di chili, richiesti principalmente dalla centrale nucleare sperimentale autofertilizzante Gioio, che aveva bisogno di piccole quantità di uranio a seconda della necessità di rigenerare il combustibile impoverito dalle fissioni all'interno del suo nucleo. L'interesse nell'arricchimento dell'uranio risiede nel fatto che l'uranio naturale è composto da una miscela di tre isotopi, uranio 234, uranio 235 e uranio 238. Dal grafico a torta potete vedere che il 238 è il più abbondante, 99,3%, il 235 si attesta intorno allo 0,72%, mentre il 234 costituisce una percentuale trascurabile. Per avere un combustibile nucleare con un'alta probabilità di fissione, e che, a sua volta, ad ogni fissione emetta un numero sufficiente di neutroni che bombardino altri atomi, generando e sostenendo una reazione a catena, abbiamo bisogno di un maggior quantitativo di uranio 235. Ecco perché si esegue l'arricchimento. L'arricchimento dell'uranio avviene mediante sistemi che separano i suoi isotopi. In questo modo è possibile raccogliere quindi aumentare la concentrazione di uranio 235 rispetto all'abbondante uranio 238. In pratica, quando si riesce ad aumentare la percentuale di uranio 235, tipicamente su valori compresi tra il 3% e il 5%, si ottiene il tipico materiale fissile per reattori nucleari. Il giorno dell'incidente, presso l'edificio di conversione, erano in corso le operazioni per la produzione di una soluzione di nitrato di uranile, con un arricchimento del 18,8%, che sarebbe stata utilizzata nel reattore sperimentale Gioio. La procedura, approvata dal governo nel 1984, chiamata Sumitomo Adu, richiedeva ai lavoratori di versare 2,4 kg di polvere di octaossido di triuranio con l'aggiunta di acido nitrico in un serbatoio di dissoluzione. Questa fase era molto importante perché a valle del serbatoio di dissoluzione c'erano vari stadi intermedi di estrazione delle impurità per il nitrato di uranile generato dal mix precedente. Inoltre, erano presenti due serbatoi tampone, la cui geometria alta e stretta era stata progettata per contenere la soluzione in modo sicuro e per prevenire criticità. Vi era infine un sistema che controllava e regolava l'emissione del nitrato di uranile nell'agitatore di precipitazione alla giusta quantità, ovvero 2,4 kg di nitrato di uranile. L'importanza di questo valore è legata al fatto che i materiali fissili come l'uranio hanno una massa critica. In pratica, se la quantità in massa supera dati livelli, si crea una reazione a catena, che nelle centrali nucleari è controllata, ma non di certo in un agitatore di precipitazione per l'arricchimento. Infine, il nitrato di uranile, a seconda della richiesta, poteva essere sottoposto alla calcificazione mediante fornace per produrre octaossido di triuragno purificato. Quando invece veniva richiesto di ossido di uranio, si effettuava la riduzione in fornace di octaossido di triuragno. E infine, se la richiesta era di fornire nitrato di uranile puro, si procedeva a dissolvere nuovamente octaossido di triuragno puro nel serbatoio di dissoluzione, ripetendo la procedura fino alla purezza desiderata. Dal 1995, in violazione del manuale operativo, la GCO cambiò la procedura senza autorizzazione, permettendo ai suoi tecnici di dissolvere l'ossido di uranio e l'acido nitrico direttamente in secchi di acciaio inossidabile da 10 litri, per poi essere pompato negli stadi intermedi. Questo velocizzava la procedura, che comunque risultava relativamente sicura, perché l'immissione avveniva ancora a monte dei sistemi di sicurezza. La finale e fatale modifica alla procedura avvenne il giorno prima dell'incidente. Il 29 settembre 1999 iniziò l'operazione per produrre soluzione di nitrato di uranile e venne eseguita da tre lavoratori della GSEO, Isashi Ouki, Masato Shinoara e Yutaka Yokokawa. Per ragioni di tempo e per velocizzare la procedura, venne deciso di svuotare quattro secchi di nitrato di uranile direttamente nell'agitatore di precipitazione, saltando di fatto i serbatoi tampone. Il processo proseguì nella mattina seguente e vennero versati altri tre secchi. Alle 10.35 del mattino si raggiunse il quantitativo di circa 16,6 kg di uranio in un recipiente che, per norma, doveva contenerne al massimo 2,4 kg. Azione che, istantaneamente, creò una massa critica. La fissione divenne autosufficiente, emettendo raggi gamma e neutroni. In quel momento dai tecnici è stato visto un lampo blu, probabilmente il famoso effetto Cherenkov, e gli allarmi dei monitor per radiazioni hanno iniziato a suonare. La vasca di precipitazione era diventata un reattore nucleare esposto all'aria, e il suo sistema di raffreddamento ad acqua era un buon riflettore di neutroni, che in quel modo avevano ancora più possibilità di colpire altri nuclei, autosostenendo la reazione. Al momento dell'evento, Isashi Ohuki aveva il suo corpo appoggiato al serbatoio dell'agitatore e sorreggeva l'imbuto, mentre Masato Shinoara si trovava sulla piattaforma per versare i secchi di nitrato di uranile. Yutaka Yokokawa era seduto alla scrivania in un ufficio a 4 metri di distanza. Non appena si verificò l'incidente, i tre tecnici evacuarono l'edificio, e alle 10.43 vennero chiamati i soccorsi, che arrivarono alle 10.46, senza però conoscere la natura dell'incidente e senza dosimetri personali. In seguito, risultò che anche i soccorritori ricevettero una discreta dose di radiazioni. Un totale di 123 lavoratori erano presenti quel giorno, e, dalle analisi dei loro dosimetri, la dose effettiva accumulata da alcuni di loro variava da 0,1 a 6,2 mSv. Alle 11.40 alcuni rivelatori di radiazioni gamma misurarono una dose di 0,84 mSv ora, rispettivamente nei punti 4, 13 e 14 sulla mappa. Il picco di neutroni al di fuori del complesso si ebbe dopo le 17 nei punti A e B. Alle 15.00 il sindaco di Tokaimura decise di evacuare i residenti nel raggio di 350 metri dalla JCO. Ed, entro le 20.10, 161 persone vennero evacuate. Alle 22.30 la prefettura di Ibaraki ordinò ai residenti entro i 10 km di stare in casa e non consumare le verdure dei propri orti. Nelle ore successive all'incidente, la reazione di fissione produsse continue reazioni a catena. Quindi JCO organizzò squadre per drenare l'acqua di raffreddamento dall'agitatore di separazione, in modo da diminuire il numero di fissioni all'interno della stessa. L'iniziativa per rimuovere l'acqua di raffreddamento è iniziata alle 2.30 del mattino del 1 ottobre, immettendo gas argone e facendo fuoriuscire l'acqua da una tubazione appena fuori l'edificio di conversione. Successivamente, nell'agitatore di separazione è stata iniettata una soluzione di acido borico per assorbire i neutroni. Questo intervento si concluse con successo alle 8.30 del mattino, ponendo così fine alla fissione del materiale. 21 persone furono impegnate nei lavori di drenaggio dell'acqua, le quali furono esposte a dosi da 0,04 a 119 mSv. Sei persone furono impiegate nell'attività di versare acido borico nel serbatoio di precipitazione, esponendosi a dosi da 0,03 a 0,61 mSv. I tre tecnici furono dapprima portati all'ospedale nazionale di Mito, poi, via elicottero, al National Institute of Radiological Sciences NIRS di Chiba. Il 35enne Isashi Ouki, che aveva ricevuto la maggiore esposizione alle radiazioni, stimata tra i 16 e i 20 Sievert, fu trasportato e curato presso l'ospedale dell'Università di Tokyo. Sebbene Ouki nelle prime ore presentasse solamente arrossamento cutaneo e un gonfiore alla mano e all'avambraccio destro, aveva subito gravi danni da radiazioni. L'enorme quantità di radiazioni, a cui fu sottoposto, distrusse tutti i suoi cromosomi e la conta dei suoi globuli bianchi era vicino allo zero. I medici tentarono di riprestinare alcune funzionalità del sistema immunitario di Ouki, effettuando un trapianto di cellule staminali donate dalla sorella, che però si rivelò inutile. Numerosi altri interventi furono condotti, nel tentativo di arrestare l'ulteriore declino del corpo gravemente danneggiato di Ouki, compreso l'uso ripetuto di innesti cutanei e interventi farmacologici, tutti senza alcun successo misurabile. Per volontà della sua famiglia, i medici hanno ripetutamente rianimato Ouki, seppur fosse ormai chiaro che il danno che il suo corpo aveva subito a causa delle radiazioni non era curabile. Ouki morì il 21 dicembre 1999 a seguito di un arresto cardiaco. Masato Shinoara, 39 anni, ricevette tra i 6 e i 10 Sivert e subì la stessa sorte di Ouki, ma con un decorso più lungo. Nonostante la sua battaglia lunga sette mesi, Shinoara non riuscì a combattere le infezioni e le emorragie interne e morì il 27 aprile del 2000. Il supervisore dei tecnici Yutaka Yokokawa, 54 anni, fu esposto a una dose compresa tra 1 e 4 Sivert, venne sottoposto a cure presso il NIRS di Chiba e venne dimesso tre mesi dopo. L'incidente di Tokaimura è stato classificato dalle autorità giapponesi come livello 4 sull'IAEA International Nuclear Event Scale, INES, che indica un evento senza rischio significativo fuori sede. Nell'aprile 2001, sei dipendenti, tra cui l'allora capo del reparto di produzione, si sono dichiarati colpevoli di negligenza. Tra gli arrestati c'era Yokokawa, per la sua incapacità di supervisionare il proceduro in modo adeguato. Anche il presidente della JCO si è dichiarato colpevole a nome della società. Durante il processo, la giuria ha appreso che un comitato per la sicurezza della JCO del 1995 aveva approvato l'uso di secchi di acciaio nella procedura di arricchimento dell'uranio. A seguito di questo fatto, alla JCO venne ritirata la licenza per la produzione di combustibile nucleare. Fu obbligata a risarcire sia i residenti della zona che gli agricoltori, sborsando cifre astronomiche, più di 12,73 miliardi di yen ai cittadini e 4,5 miliardi di yen agli agricoltori. Questo fu il più grave incidente industriale nucleare avvenuto in Giappone prima della tragedia di Fukushima. Grazie a tutti.